prova 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 benvenuti ragazzi benvenuti ben ritrovati sul canale twitch di Tom's ma oggi è di game division per questo primo appuntamento di questa nuova serie di live con ospiti di super eccezione all'interno dei quali andremo a chiacchierare di tantissime cose ma prima prima di introdurre il tema della giornata vi presento alla mia oddio la mia destra quindi di qua sì il buon corrado in arte dadobux che insomma non ha bisogno di presentazioni uno dei creator più importanti a livello nazionale per quanto riguarda i videogiochi è già stato qua sul mio canale sul mio canale oddio sul nostro canale lapsus lo ringrazio per essere tornato sempre disponibile sempre simpatico e sempre pronto la chiacchiera ciao dado grazie mille ciao yuri addirittura uno dei più importanti ora magari però mi fa piacere insomma come no qua da noi essere annoverato tra diciamo dai qua da noi scusami non fare l'umile qua da noi a livello di videogiochi e soprattutto per come li tratti tu quindi in maniera in maniera molto critica molto personale anche ma molto professionale non siete in tanti mi fa piacere mi fa piacere grazie dunque domanda di rito come stai come va bene bene no viene da ridere perché dato che giustamente noi non ci vedevamo fino a prima avevo sbirciato un attimo il cellulare quindi quando è iniziata la live mi è sembrato un po' tipo quando il professore entra in classe mi viene un attimo da ridere perché giustamente non sapevo quando iniziava quindi aspetta che lo chiudo perché ok si è chiuso è chiuso è chiuso bene 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 no no vabbè bene insomma nonostante un attimo la quarantena ci abbia un po' spiazzato tutti però dai dai ne stiamo pian pianino uscendo insomma sembra che ci stiamo direzionando no nella sulla strada giusta speriamo insomma vada sempre meglio tra l'altro eh il great dogs in chat dice dado bucks più ricercato in sto periodo della next gen sei in tendenza sei di tendenza dice sostanzialmente mi fa piacere ma chissà se si riferisce a qualcosa in particolare che non so o o io dice in generale no ma penso al fatto che mi dicevi prima di questa live cioè che ultimamente sei molto impegnato giri spesso qua e là diciamo live ospitate chiacchiere cose in effetti in effetti in effetti sì molto in questo periodo però suppongo che non solo io cioè questo è un periodo che in realtà giustamente essendo tutti a casa twitchy si sta un po' svegliando ed è un po' buffa la situazione perché giustamente chi ha twitch twitcha e quindi eh gli ospiti sono spesso chi non fa twitch e quindi io mi sto trovando spesso insomma ad essere a me fa piacerissimo essere su twitch perché è una piattaforma che utilizzo come come utente eh ma non come creator come creator l'ho utilizzata qualche volta un'ottima piattaforma mi ci sono trovato bene però poi in generale preferisco così tanto youtube da poi non essermi mai poi così tanto dedicato poi a twitch in realtà però da utente la utilizzo più come utente diciamo ma non ti stuzzica neanche l'idea diciamo di provare su twitch ho fatto delle prove infatti ho fatto delle prove interessante però ecco capito da un punto di vista proprio lavorativo non ho mai iniziato un vero e proprio percorso lavorativo su twitch capisci bene che nel nostro caso specifico da creator capito a buffo non ha senso nel senso che per me sì ce l'ho il canale twitch però è un po' a buffo parlando lavorativamente per me l'unica piattaforma lavorativa youtube per ora poi sì il canale di twitch ce l'ho però ma tu sei uno di quelli che don is better than perfect oppure la perfezione prima di tutto cioè meglio fatto che perfetto e poi vediamo in corso d'opera quello che succede oppure prima di fare una mossa in più a livello lavorativo prima di studiare che ne so un format in più prima di lanciarti su twitch è lo studi proprio nei dettagli per avere diciamo la coscienza pulita una volta che vai va varia da caso a caso varia da casa ci sono determinate cose che devono essere fatte subito talvolta magari sbaglio però ci sono determinate cose che devono essere fatte subito altre ti confesso che dato che non ho fretta di farle me le studio a lungo ti faccio un esempio banale sul secondo canale ho iniziato una cioè ora è finita insomma ho fatto tutto skyrim va bene terremoto permettendo sì bravo ma la prima puntata di skyrim giustamente poi essendo skyrim un gioco molto lungo tante puntate lunghe poi man mano giustamente all'ultima puntata sono arrivate meno persone però la prima puntata per esempio è stata vista da 80.000 persone ok che è un numero enorme va bene un numero enorme per i numeri soprattutto del mio secondo canale perché già sarebbe un buon numero per il primo canale sul secondo canale è ancora di più perché ho 30.000 iscritti 40.000 quanti sono quindi 80.000 il punto è che per esempio quella di skyrim dato che non avevo fretta di farla perché non è che un gioco che invecchia due settimane ho registrato cangellato registrato cangellato cioè ci sono stato due settimane a trovare il setup giusto di mod il come dirlo eccetera cioè per dire che varia da caso a caso poi magari invece per esempio un video di prime impressioni su un gioco deve uscire subito quindi in quel caso specifico può capitare magari che quel video non sia il massimo della qualità perché perché devo uscire subito insomma capita così delle news no magari dici delle news e dai un attimo delle impressioni sulle news che magari si rivelano poi scorretti a lungo termine però insomma dipende dipende però sei un perfezionista diciamo a grandi linee guarda non mi reputo perfezionista io dico che se una cosa non ha i limiti di tempo e beh è giusto farla bene cioè mica te l'ha ordinato il medico di pubblicare però non cioè non mi dà fastidio cioè no non mi reputo perfezionista metà e metà dipende dai casi dipende dai casi fantastico allora senti visto che la cosa più bella di questa serie di dirette che sto organizzando è non avere una scaletta cioè abbiamo un macro tema ma poi partiamo con la chiacchiera ci è venuta incontro tra virgolette xbox settimana scorsa con questo inside xbox che ha fatto tanto chiacchierare sta facendo ancora chiacchierare chiacchierare si è creato tutto un movimento di discussione di interpretazione anche e di giudizio di conseguenza di quello che è successo no in virtù anche di come si era mossa xbox nei primi mesi fammi sapere cioè dimmi come hai percepito tu l'evento io ho visto il tuo video chiaramente quindi so più o meno già come come la pensi però cerchiamo di raccontarlo a chi ci sta seguendo in questo momento tra l'altro ragazzi se avete domande lasciatele qua poi io le vado a recuperare in chat man mano che andiamo avanti nel tempo però ecco come l'hai vissuto questo inside xbox abbastanza tranquillo cioè non avevo queste grandissime aspettative diciamo che l'unica cosa che mi sarei aspettato di più è un po più di gameplay nel senso quello ce lo aspettavamo tutti soprattutto di assassin's creed perché era stato detto cioè era stata fatta la presentazione di tre minuti prima ci rivediamo per il gameplay all'evento di xbox e poi però in realtà abbiamo visto ancora meno di quello che avevamo visto prima quindi un po' quello è stato un po' una cagata diciamo non ha avuto senso così come i trailer che hanno mostrato avrei preferito fossero dei gameplay cioè erano dei gameplay trailer però avrei gradito che mostrassero proprio più delle parti di gioco proprio per vedere un po' di più la grafica nice in maniera un po' più ecco da questo punto di vista secondo me si poteva fare meglio cioè è mancata un po' la comunicazione di microsoft da sto punto di vista perché non è che è mancata la comunicazione scusa è stata è stata non ha detto completamente quello che ci sarebbe stato cioè ha detto sarà vedremo il gameplay della della nuova generazione però non è vero abbiamo visto tolto questo questo dettaglio che per carità non è un dettaglio un errore di comunicazione che insomma è palese però tolta questa cosa cioè sono giochi che sembrano interessanti ovviamente il discorso è che quelli che dicono a xbox è già morta non avete le bombe e che sony che bombe tiene godfall cioè devono ancora presentare tutto cioè il discorso è che non cioè non sappiamo ancora nulla in realtà cioè la line up di lancio le cose eccetera verranno nel quando andranno a presentare ok questo è il prezzo questa è la console uscirà giorno x con questi giochi qui e allora in quel momento specifico potremmo andare effettivamente a a comprendere quale delle due console magari può essere più interessante a prendere all'inizio potremmo andare a fare considerazioni su questo discorso qua ma per ora o non è che ti potevi aspettare che cosa cioè certo erano noi alcuni che l'hanno definiti i tripla come dire si tripla però non è così è che tu inizi ma se dall'altra parte sony sta ancora parlando di the last of us no di questa generazione perché microsoft dovrebbe arrivare dicendo o noi ci abbiamo queste scuole tempo al tempo è una mossa di come dire una partita di scacchi quindi secondo te davvero stanno giocando a chi si muove per prima in questo momento voglio dire peraltro ubisoft appena annunciato il suo showcase il 12 luglio quindi il 12 luglio ubisoft farà vedere i suoi giochi nel dettaglio ci aspettiamo che uno vi annunci il 12 luglio quindi abbastanza in là nel tempo dopo giugno che a detta di molti dovrebbe essere il mese comunque dove sia xbox che playstation andranno tra virgolette all in per quanto riguarda la comunicazione della console non dei giochi comunque la mia domanda era secondo te davvero stanno giocando a scacchi in questo momento cioè xbox ha giocato in anticipo si è portata avanti massima trasparenza arrembante nella comunicazione arrembante nell'obiettivo che si è posto che si è posta e adesso però aspetta no tu dici l'inside xbox ci hanno già ci avevano già detto che le prime parti sarebbero state mostrate a luglio ci aveva già letto phil spencer che insomma giugno maggio sarebbe stato il first look al gameplay giugno sarà dedicato alla console e luglio i giochi di prime parti questo già lo sapevamo poi però arriva playstation che piazza facendo un po di fanta diciamo di fanta concorrenza mettiamola così poi arriva playstation che piazza il trailer di the last of us il giorno prima dell'inside xbox e vedi che scacchi esatto esatto e quindi questo in qualche modo non non pompa anche le aspettative della community ha pompato le aspettative della community su inside xbox secondo me come dicevi tu il vero problema è stato non comunicare non bene ma con estrema precisione quello che sarebbe stato quell'evento per quello hanno subito un contraccolpo mediatico che c'è stato ed è stato anche abbastanza brutto in termini proprio di un'autocritica a noi creator in senso in senso generale insomma è non è che io mi stia tirando fuori nel senso che in generale a noi creator allora il punto è questo noi creator lascia stare che mo io non faccio le live su twitch però mi ci metto comunque dentro anche io in questo calderone di persone che parliamo di videogiochi e dobbiamo far notizie ok il punto è questo c'è l'evento xbox fai finta che una persona pompa come dire fa la live sull'evento xbox lo pubblicizza non è che lo pubblicizza dicendo sarà bellissimo però dice raga mi raccomando non mancate cioè inconsapevolmente pompa le aspettative ma non perché chissà perché ma perché dice o raga venite in live lo faccio io lo fai tu lo fanno tutti ok va bene quindi tutti su twitch o in generale su youtube insomma dove vettila dove ti pare insomma dai creator preferiti per seguire quest'evento poi nell'evento è un evento normalissimo e fiocca mi dislike quindi anche un po colpa insomma di nostra dico nostra ma non è che sto dicendo che non lo dobbiamo fare sto dicendo che lo allora i grandi dell'industria lo fanno live affinché noi li pubblicizziamo a nostra volta quindi tutto parte da loro però quello che voglio dire è un po questa giostra un po malata che il discorso che non è solo per xbox il discorso è anche che allo state of blade di sony o ti presenta the last of us oppure ci sono sempre dislike facci caso certo gli state of play di sony cioè o ghost of sushima o nell'ultimo periodo o ghost of sushima o death stranding o della sua vabbè final fantasy è stato mai presentato in uno state of play non mi ricordo se tu ti ricordi due su tre degli state of play mare di dislike sono titoli normalissimi che loro cioè lo stesso discorso ora di xbox dice tutto sto casino per la stessa cosa gli state of play di sony nel senso che si monta l'asportativa non lo so come questo è il problema questo è il problema anche sai che cosa ci riflettevo l'altro giorno è il problema dei grandi publisher quindi soprattutto microsoft e sony non i terze parti ma microsoft e sony che devono non possono permettersi in condizioni normali di sparire dai radar per sei mesi quindi hanno comunque bisogno di una comunicazione che sia diciamo di grande impatto o no questo a prescindere e da qui lo state of play come dici tu non può ogni volta avere dentro l'annuncio della vita per far esplodere i cuori ci sono anche degli state of play di transizione il pubblico però oggi non lo tollera più quella roba lì cioè qualche in qualche mondo si aspetta sempre la novità si aspetta sempre il grande titolo mediatico anche perché come dici tu è proprio un cane che si morde la coda questi eventi devono essere pubblicizzati da alla community e quindi se tu lo pubblicizzi in modo entusiasta la community poi si aspetta determinate cose perché se tu dici ragazzi guarda che domani faccio lo state of play però vabbè se ci siete bene ma se non venite non è che cambia tanto è guardatelo proprio se volete non possono chiaramente questi sono i primi guarda ti dico ti dico esattamente qual è la faccia guarda io è una mia previsione però se ci prendo vai allora il punto è questo siamo passati dal momento in cui si faceva si facevano gli annunci tutti insieme a un momento in cui gli annunci sono dilazionati va bene loro si stanno preparando questi eventi inside xbox state of play sostanzialmente se li stanno preparando per il futuro cioè questi primi loro sapevano già che erano un po' una cagata sostanzialmente ma se li stanno preparando per il futuro perché loro vogliono arrivare ad un punto in cui in ogni state of play sganciano una una bomba diciamo dove voglio arrivare che sony in passato ha operato delle scelte che per carità in passato sono stati vincenti ma non potrebbero non essere vincenti per il futuro a che cosa mi riferisco allora quest'anno allora sony non annuncia un nuovo gioco da tre anni ok da days gone possibile ghost of sushima è stato al playstation experience del 2000 al paris games week del 2017 è stato l'ultimo che annuncia e quest'anno sono usciti usciranno ghost of sushima annunciato tre anni fa the last of sparte 2 annunciato quattro anni fa final fantasy 7 remake annunciato cinque anni fa ma va fangulo va non possono fare così cioè il discorso è questo sony può anche fare la presentazione di playstation 5 spara le bombe horizon zero don 2 god of war 2 spazza la pesca spider man ma se poi uno niente date come ha sempre fatto ma oramai non siamo più come ai tempi oramai i tempi sono rapidi se tu lo presenti mo la gente lo vuole se tu lo presenti mo non è che poi god of war 2 esce nel 2023 horizon nel 2024 spider nel del 2025 e nel frattempo giochiamo nak 3 non esiste sony lo sa questo e secondo me sta prendendo questa direzione cioè secondo me non arriva che arriva cioè guarda se lo fa e spara tutte le bombe del mondo io voglio le date perché se non ci mette le date tu dici non funziona più non funziona più secondo me non funziona più infatti sony ha smesso di fare pro di fare proprio gli e3 ha detto loro e loro hanno detto proprio hanno specificato perché non riusciamo a stare dietro ai tempi non riusciamo quindi per arrivare a presentarvi qualcosa di decente a stretta uscita noi facciamo che non venire ai tre ma secondo me uno c'è secondo me è così che funziona guarda il noccio della faccenda guarda a parte rarissimi casi ma nintendo in realtà agisce così da molto tempo cioè presenta i giochi tipo sei mesi parecchi presentano i giochi sei mesi prima rockstar games ha presentato un red dead redemption 2 solamente l'anno prima cioè così va bene un anno prima ci sta ma secondo me proprio sei mesi sei mesi sette mesi come assassin's creed ma secondo me il vertice lo ha raggiunto guarda per me il vertice proprio di comunicazione al life guarda al life proprio loro non hanno fatto nel live stream cioè sony microsoft pare che capito proprio finite vi prego vi prego comprate della stovals al life capito che ti voglio dire c'ha il visore che costa mille euro e con un trailer di un minuto e 40 bam siamo comprati le vendite del visore sono raddoppiate cioè questa è la classe quattro mesi prima esce il gioco preciso senza rinvi si fa così e secondo me molti di più nintendo fa così da molto tè cioè a parte metroid e il sequel di breast the wild che hanno buttato lì ma ci sia la maggior parte fanno sei mesi prima ed esce sei mesi dopo pensaci no la maggior parte delle volte vabbè animal crossing è stato tiserato diciamo poi quando hanno annunciato più o meno sei mesi dopo sette mesi dopo uscita in sostanza stanno facendo questa cosa che secondo me è molto buona e io spero che prosegua avanti cioè arriva sony ti presenta la console data di lancio giochi d'uscita e la line up che ti presenta io spero che possa essere la line up effettiva del primo anno cioè giochi che escono al lancio o nel primo anno primo anno e mezzo cioè quello che voglio dire che se al lancio mi presenti final fantasy 7 parte 2 per fare un esempio e poi final fantasy 7 parte 2 ci vuole il 2023 che cavolo c'entra con la presentazione di lancio questo è il discorso guarda io penso che concretamente vedendo anche tutto quello che hanno in sviluppo di confermato quindi prendiamo horizon 2 god of war 2 e spider man 2 queste 3 no che sappiamo che esistano secondo me verranno tutte annunciate con la console e collegandomi a quello che dici tu realisticamente penso che la data ultima di una di queste tre sarà il primo trimestre 2022 cioè loro annunciano giochi in uscita da dicembre con la console fino a marzo del 2022 e mi sembra ragionevole cioè vorrebbe dire un esclusivo ogni sei mesi sostanzialmente un allancio non siamo sicuri che fanno così no non siamo io guarda non lo so corrado nel senso loro lo vedi anche da questa cioè lo vedi anche dal fatto che annunciano il pad della nuova console con un post su twitter cioè ma secondo allora se tu monti tutta l'aspettativa e poi mark cerny ti fa la lezione universitaria hai sbagliato comunicazione è certo ma così invece tam trailer dal nulla oppure post twitter domani trailer di the last of us bam oppure anche l'inside xbox e manca allora l'inside xbox che cosa è mancato il gameplay di assassin's creed finale perché se noi avessimo avuto quei dieci minuti di gameplay di assassin's creed finale sarebbe cambiata la faccenda applausi applausi invece che critiche secondo me sì è questo è state of play e inside xbox questa formula va benissimo forse un'ora di inside xbox se la possono evitare queste interviste non interessano a nessuno secondo me fanno trenta minuti ci buttano fuori dieci trailer tu dici giochi minori aspetta però tra questi dieci giochi minori io ne ho adocchiato due che mi interessano assai che sono bright memory infinite e medium la di silent hill the medium quello lì per esempio quindi tu fai state of flames e disbox dieci titoli doppia indie così li butti e poi alla fine una bomb secondo me così spacca anche soprattutto perché dai anche risalto al titolo indie perché parliamoci chiaro se tu fai le l'evento e3 nonostante secondo me sia affascinante secondo me è anacronistico l'evento e3 invece perché perché tu fai una conferenza di un'ora e mezza fai uno spettacolo quello che vuoi ma poi all'interno di quello spettacolo i titoli indie eccetera cioè tutto viene eclissato se io ti dico dimmi un titolo che ti è rimasto impresso delle tre del 2015 vabbè ora non me li ricordo però all'epoca se tu ti ricordi delle tre 2015 ma non mi ricordo tutti i titoli che sono stati annunciati però dopo le tre 2015 si parlava di un solo titolo final fantasy 7 peraltro un remake di un titolo vecchio cioè tutti i titoli annunciati secondo me è quello che non funziona è molto meglio una settimana annuncio io una settimana tu poi tra tre mesi annuncio io un'altra cosa e loro vanno a guarda secondo me funziona veramente bene per ora stanno facendo un po delle cagate perché giustamente hanno annunciato tutto è di questa generazione quindi e quindi per ora non ci sono non ci non c'è la bomba finale diciamo cioè il famoso one more thing cioè è quella di ubisoft no classico in conferenza ubisoft che alla fine sparano sparano la bombetta no però sono d'accordo con te allora sai che cosa anche è stato anche un problema paradossalmente il fatto che xbox abbia fatto straordinariamente bene in questi mesi abbia giocato straordinariamente bene in anticipo e si è diventata straordinariamente brava nel comunicare l'hardware perché io un reveal così di una console non l'ho mai visto sia sì che siamo giovani però anche andando indietro a memoria non penso che si sia mai visto che a febbraio marzo youtuber andavano da loro a redmond ad aprire disassemblare assemblare la console che doveva uscire l'anno dopo cioè sapendo già tutto io penso che una roba del genere non si sia mai vista nella storia quindi ogni volta che arrivava un teaser di xbox del tipo ci vediamo domani la gente impazziva giustamente così è stato anche con l'inside xbox io penso che gli errori siano stati due sostanzialmente il primo comunicare male il gameplay reveal di assassin's creed perché parliamoci chiaro oggi non puoi per culare le persone giocando nella zona grigia del termine gameplay sappiamo benissimo la gente sa benissimo cosa vuol dire gameplay cioè voglio vedere il prodotto finito o comunque un alfa in movimento ok giocato ok e poi c'è stata un'altra cosa che io mi chiedo perché ancora in queste grandi aziende quando quando si pianificano strategie di marketing nessuno interviene cioè come non è possibile che nel corso dell'inside xbox dedicato al gameplay a serie x non ci siano state specifiche sulla risoluzione sulle prestazioni dei giochi mostrati cioè perché non mi dici risoluzione tutto quello che vedrete oggi ha una risoluzione minima di 4k 60 fps me lo dici a inside xbox finito con un articolo su xbox wire o su twitter cioè cose inspiegabili cose inspiegabili e quindi ti becchi la pioggia di dislike ti becchi 300.000 spettatori che diventano 150 in 15 minuti ti becchi la tirata d'orecchie secondo me ci può stare ci può stare la luce che sta prego il sole così mi dovresti vedere meglio fammi vedere sì sì ti vedo meglio e ti becchi tutte queste ti becchi tutte queste critiche che sono giustificate in qualche modo te lo meriti no nel senso sempre parlando a livello a livello professionale quando fai quelle robe lì ti poi ti meriti la tirata d'orecchie poi si scatena si scatenano secondo me le chiacchiere un po basate sul nulla cioè la classica console war che lascia un tempo il tempo che trova però c'è chi dice in questo momento che da un punto di vista di ecomediatico se oggi playstation uscisse con un annuncio di un certo tipo probabilmente in qualche modo eclisserebbe l'ottimo lavoro fatto da microsoft perché quando ti metti nella posizione di rincorrere poi al primo errore rischi di rischi di vanificare tutto si sta giocando un po in quella zona lì adesso poi fermo restando l'incognita del piano di comunicazione delle aziende che ancora non sappiamo bene come quando dove perché quindi c'è tutta questa situazione che è stimolante ma vive di incognita sostanzialmente ma guarda per quanto riguarda la prossima generazione allora tutto si giocherà su un fattore che però purtroppo per ora non possiamo prevedere io ti dico una parola vai Nokia se hai capito cosa se capisci che cosa intendo chi mai si sarebbe aspettato che Nokia potesse fare un tonfo così clamoroso Nokia ha fatto un tonfo clamoroso perché iPhone Apple sostanzialmente è andato a proporre un qualcosa che era talmente vabbè quello forse non rende così tanto il parere perché è una novità tecnologica non è quello l'esempio l'esempio corretto forse è Netflix Spotify cioè esce e mette in crisi un'intera industria cioè allora mi spiego meglio noi per ora continuiamo a ragionare con l'ottica di ora ma noi non sappiamo nel prossimo decennio quale saranno le tecnologie o comunque le le usanze dominanti ho fatto come dirà batando dominanti 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 che cosa voglio dire allora tu dici oggi come oggi no lo vedi anche alle mie spalle quanti titoli scatolati le collector edition tu dici oggi come oggi se Sony arriva con l'esclusiva l'esclusiva comunque più peso rispetto a no questo è il pensiero che abbiamo un po tu io non la penso così però in generale nel percepito influisce ancora molto e influisce ancora molto allora la percezione del pubblico vedi che non ci mette niente a cambiare perché anche una persona potrebbe dire ma vuoi mettere andare a cinema rispetto a Netflix può darsi però Netflix stai a casa tranquillo con la stessa cifra che la paghi una volta la hai tutto il mese guardi quando vuoi metti in pausa quando vuoi ora io sto dicendo che Netflix è migliore del cinema sto dicendo che le usanze cambiano e a conti fatti tu dici ma vuoi mettere God of War sì però God of War costa 70 euro allora tu con 70 euro c'hai sette mesi di Game Pass tutti i giochi che vuoi quando vuoi ora io non so se capisci dove voglio arrivare noi non sappiamo verso dove le usanze del pubblico vanno perché Xbox Game Pass è talmente clamoroso come servizio che nel momento in cui viene percepito in una certa maniera potrebbe essere Game Pass ad oscurare le esclusive Sony non mi sto inventando niente e nella storia del della fruizione dei proprio in generale tu dici ma vuoi mettere il cinema che ti senti proprio Interstellar Interstellar la mia più grande il più più grande rimpianto e non aver visto Interstellar al cinema che non è la stessa cosa rispetto a giocare la casa e rispetto a vederla a casa ma ribadisco il concetto ma vuoi mettere la comodità che stai a casa paghi la cifra e lo vedi quando vuoi eccetera insomma secondo me il confronto sommariamente regge il discorso è questo Xbox è i suoi servizi e i suoi servizi la Xbox non è la Xbox la Xbox è i suoi servizi potrebbe tranquillamente essere che la maggior parte del pubblico del prossimo decennio si cominci a stufare di preordinare le collector edition eccetera che questo bacino di pubblico rimanga una minoranza cioè per quanto ne sappiamo noi potrebbe essere esattamente quello che succede nel mondo della musica cioè nel mondo della musica la stragrande maggioranza ascolta musica col cellulare con 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 insomma come dice casse di merda perché sono casse di merda l'ascolti col cellulare male da Spotify rispetto a prendere il cd e ascoltarlo sullo stereo c'è paragone già è paragone però dal cellulare lo prendi metti la musica che vuoi e la cosa che vuoi dal cellulare invece dallo stereo accendi poi dai fastidi ai vicini e insomma tutto quanto e insomma il discorso è più o meno simile se capisci dove voglio arrivare Yuri ma non so come se sono riuscito a palesarti no no ti sei spiegato benissimo non sto dicendo che per forza capita sto dicendo che non lo sappiamo ma io la penso come te la penso come te a tendere però nel senso che nel prossimo triennio lo capiremo probabilmente oggi stavo rispondendo al fatto che tu hai detto se esce Sony con un'esclusiva oscura oggi si oggi si dato no oggi proprio oggi a oggi si a livello mediatico ma nel corso del tempo non lo sappiamo ancora ma anzi no io io sarei sarei più diciamo arrogante di te in questo momento direi noi nel futuro lo sappiamo che sarà game pass la soluzione ma non non sappiamo tra quanti anni non sappiamo tra quanto non sappiamo tra quanto non sappiamo tra qua e attenzione molto dipende sì dal pubblico questo in dubbio perché il fatto che comunque ripeto Sony posticipi inizialmente della Stovas impaurita dalla distribuzione fisica ci dà uno specchio chiaro di quello che è il mercato oggi almeno relativamente a determinati prodotti ok d'altra parte non sappiamo ancora cosa succederà e succederà a breve penso tra giugno e luglio quando Microsoft dirà che tu comprando serie x al day one giocherai ad allo infinite gratis non sappiamo quale sarà la reazione della gente perché parliamo comunque di uno dei franchise più importanti nella storia dei videogiochi che ha bisogno di riscatto che ha bisogno di tante cose tu mi dici ti compri la console ti giochi allo infinite gratis ma non solo tutto il catalogo tutto il catalogo game pass per una settimana e poi decidi se sottoscrivere il servizio non mi stupirai se sulla confezione ci fosse scritto proprio ti giochi e ci mettono proprio magari the witcher 3 red dead redemption 2 perché tu li hai chiaro cioè li mettono proprio in copertina e guarda io spero onestamente che facciano una comunicazione di questa tipologia molto aggressiva importante perché bisogna comunicare bene alle persone insomma i servizi perché al giorno d'oggi io questa è una cosa che dico da inizio anno allora chi ha già la ps4 se la gode perché ps4 è stata grande protagonista di questa generazione e saremmo matti a dire il contrario chi ha già ps4 ma se una persona deve decidere ora se comprare ps4 xbox one ora in questo momento in realtà ora conviene comprare xbox one mi spiego meglio perché ps5 sarà retrocompatibile quindi per recuperarsi le esclusive ps4 ti compri ps5 tra qualche anno e ora con xbox one ti giochi a vigna diciamo dalle nostre parti insomma 10 euro al mese tutti giochi questa generazione col game pass tutti tanti giochi questa generazione quindi cosa conviene fare ora se uno non ha nessuna console di questa comprarsi xbox one ora che te la buttano dietro ti fai game pass due anni in questi due anni aspetti che abbassi di prezzo e poi se ti interessano le esclusive sony tra due anni converti la xbox one in una ps5 alle offerte che fa games eccetera e ti recuperi le esclusive lì cioè paradossalmente conviene far questo ora come ora ma perché perché su xbox one ci girano le esclusive microsoft dei prossimi due anni mentre le esclusive sony non girano su ps4 chiaro anche perché io aspetto di capire come sarà questa retrocompatibilità playstation perché io lo ricordo sempre playstation non nasce con l'idea di retrocompatibilità quindi non aspettiamo cioè proprio come brand playstation non ha mai avuto la retrocompatibilità tra i suoi dogmi e quindi non aspettiamoci un catalogo retrocompatibile sconfinato ci saranno tante cose ma tante no perché non sarà possibile portarle con facilità all'interno del sistema retrocompatibilità xbox invece l'esatto contrario detto questo qual è il problema del tuo ragionamento che è formalmente impeccabile impeccabile qual è il problema la comunicazione cioè che xbox oggi io ho l'impressione che game pass sia un fenomeno anche a livello numerico ma non così tanto come potrebbe dovrebbe esserlo e questo sapranno loro risolvere il problema se si 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 di problemi non si può parlare e poi c'è tutto il fattore passaparola e giochi mainstream cioè se vuoi giocare a fifa fortnite col tuo amico non ti comprerai mai un xbox oggi e quindi ora per ora esatto quindi stavo dicendo proprio Microsoft call of duty su scorsa generazione era su era su 360 in vero si due si si su scorsa si esatto su scorsa generazione quindi il grande la grande virtù che deve mettere in campo oggi Microsoft se vogliono è andare a sconfiggere non a tra virgolette sconfiggere playstation come base installata e come hardware ma come percepito come come radicato come brand radicato nell'immaginario delle persone è lì che vince playstation è lì è lì la lotta si fa lì e perché e quindi perché Microsoft i servizi perché i servizi potenzialmente vanno in casa di milioni di persone molto più facilmente che una console anche solo a livello di comunicazione cioè si sta giocando lì e si si può fare io non sto dicendo che tifo uno l'altro nel senso che la cosa che io spero è che pareggino sostanzialmente quello che voglio dire che di playstation ancora sappiamo poco quindi non è giusto fare un confronto perché sappiamo poco io dico semplicemente che le mosse che sta facendo Microsoft sono sono troppo belle sono troppo interessanti ed è per questa motivazione che nei miei video che dico che Sony deve sparare fuochi d'artificio nel momento in cui va a sparare fuochi d'artificio significa ovviamente sui videogiochi e nel momento in cui arriva nel primo come hai detto tu come hai auspicato tu e io lo spero entro inizio 2022 con Horizon Spider-Man e God of War 2 più ovviamente nuove IP insomma non tre esclusive me ne aspetterei almeno un sei esclusive in un anno e mezzo la miseria no mi viene da ridere perché conoscendo loro non è vero sei esclusivi in un anno e mezzo sì perché tu fai uscire no allora il discorso è questo al lancio una una almeno un paio scusa no non succede no aspetta di che esclusive parliamo io ti dico Horizon 2 al day one e Gran Turismo non sto parlando di bombe sto parlando di esclusive che cosa significa ti faccio un esempio nel corso del primo anno concreti geni ok sì concreti geni è un progetto indipendente comunque interessante ok e vabbè concreti geni non avvendete un cazzo non è facile capito non non sto non so farti The Order ok The Order non è il capolavoro della vita però è Knack 3 dice Chiano Reeves ecco Knack 3 per esempio è la cosa che non deve fare ok ma ci sono delle esclusive che sono interessanti ma non sono ma non è Horizon allora Horizon è capito il titolo mainstream che ti vende 10 milioni cioè capito però poi ci piazzi il remake di Demon's Souls è un che ne so il remake come è stato il remake di Medieval una cosa del genere ok cioè il discorso è questo cioè secondo me devono esserci sia delle bombe sia dei titoli che si accompagnano tipo ci so fare un esempio perché non lo so io auspico che possano essere delle nuove ip però questo Godfall sembrerebbe un po' una roba del genere no per esempio sì esatto nel senso non è che deve essere il titolo della vita però quei titoli che si aggiungono un po' al piatto e tu dici che cosa offre uno che cosa offre l'altro nei primi mesi di vita no xbox comunque sunset overdrive ragazzi è uscito nel primo anno di xbox non lo so Horizon of Rome erano prodotti nulla di che ma paradossalmente erano più interessanti di quelli di ps4 paradossalmente ps4 con le esclusive è andata poi a stravincere da blood burning poi nel primissimo periodo non erano chissà che insomma le esclusive sony se ti ricordi insomma no ma il problema è che era già tardi nel senso xbox si era già segata le ginocchia da solo col kinect cioè era già tardi capì il day one era già tardi ma d'accordo ma ps5 non può fare come ps4 capito non può svegliarsi nel 2022 no perché questa volta la concorrenza è forte sì sì sono d'accordissimo sai qual è sai qual è tra virgolette il dramma che si lega a tutto questo discorso intelligente che abbiamo fatto sai qual è il dramma sempre oggi è relativamente ad oggi che se domani esce un tweet di playstation con il layout di psc con il design di ps5 che è molto figo gli basta questo oggi poi i conti sulle esclusive lo farà tra un anno però oggi probabilmente per convertire di quasi uno a uno la base installata di playstation 4 gli basta è talmente forte il brand oggi che può campare di rendita ancora per un po' però che poi non se lo può sì secondo me sì gli like sono gratis come gli like sono gratis sì però però ti dà il polso della situazione qual è la console più venduta della storia iuri oddio ma sai che playstation 2 esatto sotto sotto nintendo no 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 la console più venduta della storia è playstation 2 se no dicevo poi sotto nintendo sto facendo la lista penso ps1 100 milioni non lo so ah è il game boy o il 3ds vabbè comunque non era quello il discorso la console più venduta della storia è stata playstation 2 ok ascoltami non cercare 150 milioni vai vai ti ascolto vai vai sta tirando giù la classifica faccio tutto vai sì ma non devi cercare quel dato devi cercare un altro dato allora se tu ti vai a vedere i dati di vendita di playstation 2 che è la console più venduta della storia ha toccato 100 150 milioni di più ok 160 160 ok la cosa interessante è che alla fine del suo ciclo vitale aveva venduto 100 milioni di esemplari i restanti i restanti 60 milioni le ha venduti durante il periodo ps3 il più grande nemico di playstation è playstation 4 playstation 5 cioè durante il periodo di playstation 5 tu dici il brand è forte no e ps4 che è forte sì chiaro chiaro durante il periodo playstation 5 se xbox serie x è molto forte potrebbero continuare a vendere delle ps4 e dell'exbox serie x con ps5 che non tiene il passo cioè non sto dicendo che andrà così sto dicendo che per 360 e andate in questa maniera cioè venivano venivano vendute le 360 come nuove console e continuavano ad essere vendute le ps2 e non le ps3 ps3 ha recuperato negli ultimi tre anni chiaro sul finale certo ok il discorso è questo cioè tu dici il brand playstation è forte no è forte ps4 non il brand playstation non è la proprietà non è transitiva tra le console non è come iphone che c'è la proprietà transitiva playstation 4 è una cosa ps5 un'altra tu vai al negozio vuoi giocare a forte sei un bimbo vuoi giocare a forte il papà a 100 euro in tasca non vuole spendere di più e ti però ps4 e la ps5 rimane lì capito sì ma sono d'accordo come dice marco in chat state dicendo entrambi verità nel senso che hai allargato con con dovizia di particolari un mio spunto diciamo pressa pochista in questo in questo in questa situazione mettiamola così quindi io sì sono d'accordo però poi c'è poi c'è un altro dato che manca all'equazione che è altrettanto fondamentale se non uno dei più importanti il prezzo ah ok pensavo che dicevi nintendo no no l'intento per ora la teniamo drammaticamente a parte che scorre parallela cioè vende a prescindere diciamo vende a prescindere e poi come ti dicevi tu come dicevi tu prima di parlare di questa e fantomatica switch pro che dovrebbe esistere non penso non penso che arriveranno con un'altra console prima di questa switch pro di cui sentiamo e sento parlare da mesi quindi vedremo quel che succederà devono ancora capire con metroid e con con questo breath of the wild 2 che cosa si farà quindi per ora la teniamo tranquillamente fuori da dall'equazione del ragionamento però il prezzo tu sei un tu sei un pcista no mi dicevi nella prima live che abbiamo fatto cioè secondo te una roba come serie x quanto può costare concretamente secondo me 5 99 però sai la mia teoria era che arrivavano ps4 4 ps5 4 99 quello 5 99 però arrivato a questo punto in realtà non lo sappiamo perché microsoft potrebbe decidere di vendere in perdita di tanto sony potrebbe decidere di vendere in perdita di tanto sony potrebbe decidere di non vendere in perdita non lo sappiamo arrivato a questo punto avevi sentito quella notizia che sony potrebbe avere solamente 6 milioni di ps5 ecco può darsi che lei abbia detto o noi ne abbiamo solamente 6 milioni creo domanda per alzare l'offerto cioè creo l'offerto la domanda per alzare l'offerto e la vende a 5 99 magari sì beh penso che sia un calcio nei coglioni no io non penso che sia una roba non penso che possa fare una cosa del genere e perché allora farne solamente 6 milioni ma penso che sia una penso che sia una sciocchezza quella quella notizia che è uscita cioè che poi sì sì dai cioè playstation è la console mainstream infatti ma non ha alcun senso capito è la console come dicevamo prima è la console dove si gioca fifa e fortnite non ha senso e per loro sarà importante continuare ad esserlo penso io da un punto di vista economico non possono permettersi vorrebbero esserlo bravo tutti vorrebbero esserlo no ci prova anche stadia mettendo madonna santa mettendo pub g nel nell'abbonamento proprio ora sta vabbè poi magari ne parliamo cinque minuti su stadia ce li ce li ce li ce li prendiamo comunque io penso e ne parlavo recentemente un'altra live se non sbaglio che continuerà ad esserci la forbice di 100 euro tra xbox e playstation forbice che abbiamo già visto con ps4 pro e 1x e con 1 e ps4 cioè rimarrà quella forbice lì cioè guarda io secondo me sì però guarda in realtà cioè pure secondo me perché quella è più potente e così via la vendi come la console borghese tra virgolette no quella che più potente che spalla miglior console di tutte ok e quindi però poi in realtà cioè a conti fatti non lo sappiamo cioè magari fanno la magata e arrivano allo stesso prezzo e quindi tu ti trovi lì a dover dire a cazzarola e ora e ora è tosta senti ma quanto non si parlano e quanto si parlano secondo te quanto la concorrenza è teatrale e quanto è reale guarda di questo non ne capisco non voglio scendere no no ma secondo te cioè a livello di esperienza quello che hai visto negli anni gli annunci la comunicazione non lo so guarda veramente tocchiamo un fattore che proprio non non riesco proprio ad immaginare non riesco proprio a leggere qualcosa che non non ne ho proprio idea non io sono convinto per esempio che è impossibile che non sappiano non dico nel dettaglio ma a grandi linee cosa stia facendo una cosa stia facendo l'altra cioè io non credo tanto per capirci a playstation che abbassa il prezzo di 100 euro di ps4 dopo aver visto xbox non ci credo cioè che in mezz'ora abbassano il prezzo di 100 euro della console non ci posso credere a questa roba qua capito mi sembra è una cosa che non c'ho mai ti dico la verità non ci avevo mai pensato è una cosa ero convinto che fosse non lo so non lo so non ci ho mai pensato che se la parlasse è possibile ma io ho questo ho questa idea che è una idea mia non so nulla attenzione non vorrei non vorrei mettere semi nella testa di qualcuno è una mia idea è una mia idea però vedremo recuperiamo un po' di domande dalla chat dado ti va certo vai vai allora intanto che ciao a tutti ragazzi grazie a quelli che si stanno iscrivendo siete tanti mi fa piacere ciao passerotto ciao after ciao thomas ciao marco ciao pizzottomi una cosa fantastica di twitch dado sono i nickname cioè gli username della gente sono veramente straordinari comunque ciao a tutti grazie ricordatevi di lasciare un follow al canale se volete così insomma ricevete una notifica sempre quando siamo online il palinsesto lo trovate qua sotto oggi siamo con dado domani saremo con tante domani questa settimana ci saranno tanti altri ospiti dado ritornerà sicuramente qua trovarci perché è troppo gentile non mi dice mai di no quindi prima o poi gli offrirò una pizza anche due e comunque ci chiedevano secondo voi qua siamo proprio nel campo delle speculazioni della chiacchiera cosa annuncia ubisoft il 12 luglio in conferenza vai allora il punto è questo se è una nuova ip come facciamo a indovinare l'hai visto il video di prince of persia redemption sì sì ma è un gioco di otto anni fa però esatto esatto cioè incredibile quindi ma non si io per esempio l'ho scoperto l'altro giorno qui sì pur io pur io pur io ed è incredibile che era lì su youtube e da quanti mesi è che si chiacchiera di prince of persia e nessuno abbia visto e nessuno ha visto nel tempo questo cazzo di filmato leak che era lì su youtube fa ridere se ci pensi certo questo per dire che ci sono tante cose su youtube che sono ottime però non vengono scoperte chissà perché poi mario rabbiz 2 dice passerotto l'hai giocato il primo a voglia ti è piaciuto guarda è un xcom puccioso cioè un appassionato di strategici potevo non giocare mario rabbiz è ovvio e poi vabbè chiaramente tornerà assassin's kid valala e poi c'è sempre tutti i just dance insomma tutte tutte le produzioni che ci ha abituato alle quali ci ha abituato ubisoft negli anni e poi chissà no io per esempio sono curioso di capire cosa faranno di siege se continuano se continueranno a supportarlo o se usciranno con un secondo questo per esempio è interessante di ritorni a me piacerebbe il ritorno di splinter cell ma come ecco bravo come lanciamo un te come lo vorresti questo nuovo splinter cell secondo te funzionerebbe ancora un full stealth certo hitman ora io non so i dati di vendita di hitman ma hitman il nuovo hitman è favoloso è un ritorno in vecchio stile al con la tecnologia di oggi e splinter cell su quella falsariga lì ma splinter cell funzionerebbe tanto poi se tu mi dici vende non vende io non li so i dati di vendita di hitman però se hanno fatto anche hitman 2 vuol dire che il primo hitman ha venduto se no non lo faceva la seconda stagione credo no chiaro ci sarebbe da chiedersi allora questo è una cosa che posso dire io da a febbraio ho ricevuto informazioni certe affidabili al 100 per cento che splinter cell non fosse neanche in preproduzione ok va bene o comunque se lo era non era un'informazione che è stata capillarizzata a ubisoft diciamo nel mondo cioè una roba che stanno tenendo segreta quindi non lo so sono sempre molto disilluso io su questa cosa ho detto che lo so detto ci spero se non c'è non fa niente sai le nuove ip sono quelle che hanno ubisoft è quella che rischia sulle nuove ip quindi a me piace molto questo fatto quindi per questo non ti saprei dire io credo che presenteranno delle nuove ip anche se anche scusami anche se hanno ancora da capire bisognerà capire legion e gods and monster quando li piazzano perché sono spariti ecco per esempio gods and monsters è una nuova ip skull and bones per esempio dovrebbe anche uscire secondo me non esiste più dato tu dici l'hanno cancellato secondo me sì ma sai perché non mi sembrava un'idea talmente bella molto bella quando fu presentato però magari lo potevano modificare un po in favore non lo so non lo so però c'era qualcosa di interessante e qualcosa un po di merda quindi è perfetto è perfetto c'era qualcosa di interessante ma anche un po di merda un po di merda è così nel senso che era un po era un po però qualcosa di interessante c'era io speravo che andando avanti loro perfezionassero un po tu ci lo cancellano e può darsi può darsi che lo cancellano io non ho mai trovato interessante un gioco un gioco con il sistema di battaglie navali di assassin's creed non l'ho mai trovato interessante sinceramente detto questo come dici tu soprattutto quando hanno fatto vedere che c'era anche la parte a terra cioè di personalizzazione di giro te lo ricordi c'era era uscito quel quel breve teaser dove c'era il pirata che camminava nella baia faceva cose no questo mi era sfuggito però anche se solo in mare cioè non è cioè dipende come dipende come strutturato va bene sapevamo comunque talmente poco che era giusto per dire sarebbe stato interessante saperne di più quello che sapevamo finora non era entusiasmante però in realtà è quello che voglio dire che strutturato bene poteva avere un suo perché cioè non era necessariamente fasi a terra poteva essere anche una storia strutturata sulla nave che tu controlli l'uomo sulla nave succedono delle cose per dire cioè dove voglio arrivare cioè poi se eri solamente tu che controllavi sta nave che bombardavi no non penso ma non penso che loro volessero fare sta cosa qua cioè non lo so ma senti ma valalla invece tu sei un fan di assassin's creed sto cercando di capire se vedo cose lì dietro di assassin's creed ma non non è troppo lontano c'ho black flag ma quasi tutti in digitale in realtà ma sai assassin's creed guarda io in realtà non sono un fan di niente a lui sono fan di non sono fan di niente green fandango io fan proprio fan cioè significa no fan proprio che green fandango starcraft vabbè che non si vede e the last of us questi sono proprio fan proprio che tu dici capito fan girl questi fan poi c'è una serie di videogiochi che apprezzo tantissimo super apprezzo skyrim per esempio quindi la saga di elder scrolls non mi reputo fan però i di elder scrolls fallout eccetera cioè mi piacciono tanto tanto dark souls e quant'altro deus ex disonored insomma tanti civilization insomma un sacco di videogiochi in cui mi reputo insomma appassionato però non proprio fanboy ecco e poi nel terzo livello ci sono i videogiochi che non sono appassionato però guarda caso li gioco tutti sia assassin's creed sia far cry far cry solo il 2 non mi ha chiesto a conti fatti perché tutti gli altri li ho giocati tutti e far cry primal no però tutti gli altri mi sono piaciuti assassin's creed è la stessa cosa a parte syndicate che mi ha fatto un po cagare rogue non l'ho giocato tutti gli altri li ho giocati e mi sono mi sono piaciuti cioè è stato un appuntamento sempre più o meno fisso cioè sempre quel videogioco per il quale non stravedo ma che gioco sempre per più con piacere perché so che non mi delude e non mi hanno mai deluso in realtà gli assassin's creed ma anche quando dicevano che erano sempre gli stessi cioè mi andavano bene la cosa che io dico dei nuovi assassin's creed è questa che li hanno cambiati perché che merda li fate sempre uguali ma hanno cambiati e vi lamentate ma che cazzo guarda io non capisco io ci faccio io sono convinto che avesse bisogno assassin's creed di prendersi una pausa e dire ok riordiniamo le idee abbiamo poche idee a livello creativo abbiamo dato quello che dovevamo dare con quell'action parkour interessa persona tiriamo un sospiro e vediamo cosa fare ok arrivano con origins secondo me belli proprio origins mi è piaciuto voglio essere banale è bellissimo origins con quella definizione più banale possibile immaginabile senza perdere tempo nel spiegarvi perché perché se ne è parlato tantissimo di origins però cazzo sai che mi viene veramente mi esplodono le vene quando sento quello non è più assassin's creed ma cosa stracazzo vuol dire io non so se hai visto ho fatto un video in merito io non sono d'accordo allora i nuovi assassin's creed sono assassin's creed gdr cioè ecco c'è qualcosa in più rispetto ai vecchi ma sono assassin's creed gdr ok sono d'accordo che i gdr la parte gdr non c'era ma continuano ad essere degli assassin's creed gdr non so spiegarlo quindi c'è secondo questo ragionamento neanche god of war è god of war beh esatto però c'è chi dice effettivamente che god of war non è god of war però anche lì non sono d'accordo il nuovo god of war reinventa la formula di god of war sai che secondo me è uno dei giochi migliori di sempre guarda audace però lo rispetto cioè sicuramente sicuramente sì secondo me è uno dei tre barra quattro migliori action della storia come action in terza persona potrebbe essere d'accordo e lo metto anche nella top 10 15 dei giochi migliori di sempre proprio di sempre andiamo a pescare anche pacman e quindi proprio allarghiamo questa questa è difficile perché 10 sono pochi ma sono indubbiamente personale ma come come ovvio che sia no 10 io no non ciò mettere 10 di sempre no però però nella mia classifica generazione per ora è il secondo per dirti chi è il primo the witcher 3 non miei preferiti il mio preferito di questa generazione è come preferito per ora come preferito preferito sono indeciso tra horizon e death stranding che sono due titoli che amo come preferito ma come migliori per me i tre migliori sono terzo posto di per ora terzo posto divinity originals in due secondo god of war e prima the witcher 3 questo è il mio podio della generazione ma senti qua e questo è una provocazione che lancio sempre o meglio faccio sempre batti batti becco spesso col mio collega che è andrea che mi fa compagnia qua nel live di solito e lui mi dice bisogna essere oggettivi yuri e io gli dico andrea ma non vuol dire un cazzo essere oggettivi mi spiego cioè l'oggettività esiste nel dirti che questa bottiglia è affusolata blu trasparente che questa parete è rossa bla 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 ma non esiste poi tutto il resto soprattutto nella critica nella critica finché non si tira in ballo la grammatica cioè se tu mi dici che god of war è un gioco programmato male mi stai oggettivamente dicendo una stronzata ok ma se tu mi dici che god of war non ti piace perché il sistema di combattimento non l'hai trovato appagante io non ti posso dire nulla io non ti posso dire poi è mia responsabilità oltre ciao ualo senti altro esempio i capelli di yuri sono oggettivamente folli ciao ualo ciao sono oggettivamente folli i capelli ma quali capelli ualo guarda qua sta finendo la situazione qua ti raggiungo presto nel nel bolding comunque dicevo poi l'oggettività a un certo punto finisce ma finisce molto in fretta e quindi quando tu mi dici questi sono i miei preferiti non i migliori in realtà che differenza c'è ah no 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 allora aspetta se questi sono due discorsi diversi vai spiegamela allora sono completamente d'accordo che non esiste qualcosa di oggettivo anche perché scusa mi chiudo se poi non pubblico io come diciamo responsabile della parte videogiochi di non pubblico più articoli non pubblico più recensioni soggettive viene fuori una roba procedurale cioè non è critica quella non è capito cose diverse allora allora le cose oggettive non esiste cioè nel senso che esattamente come dico spesso sul mio canale allora se esistesse un modo oggettivo di fare una recensione esisterebbe una recensione e basta perché ne esistono tante perché la pluralità di pensiero che compone la critica videoludica ok quindi non esiste l'oggettività esiste la soggettività ma c'è una grande differenza questo anche questo lo ripeto sempre sul canale come un mantra tra gusto personale e opinione personale sono due cose differenti e mia opinione personale che breath the wild sia uno dei videogiochi più importanti di questa generazione insieme ad al fly falix e mio gusto personale preferire horizon death stranding life is strange a breath the wild perché è un mio gusto personale davvero io preferisco life is strange a breath the wild ma è mia opinione reputare life is strange neanche tra i migliori 100 neanche tra i migliori 100 cioè l'opinione il gusto per me sono cose diverse te ne dico un'altra te ne dico un'altra secondo me faccio impazzire la chat sempre questo giochino è mia opinione è mia opinione personale che the last of us sia uno dei giochi più importanti di sempre più influenti ma il tuo gusto personale che è mio gusto personale dire che uncharted 4 è il miglior gioco di naughty dog ok pensavo una cosa stupida no vabbè no 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 vabbè però sai quando si non è così assurdo cioè non sono d'accordo però non so non è così assurdo e non sei d'accordo perché è oggettivamente falso no 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 cioè quando si scende nel discorso poi dei gusti non non è controbattibile però cioè non mai detto che il migliore è crash bandico voglio dire un certo il quattro è un gran titolo insomma secondo me qualitativamente parlando l'ho rigiocato recentemente qualitativamente parlando è una roba proprio la qualità media di ogni fotogramma di 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 uncharted 4 e quindi di riflesso come esperienza perché è un blockbuster uncharted 4 è l'avengers endgame dei videogiochi è quella roba che e sì è quella roba che deve piacere a tutti no cioè che vuoi vendere a chiunque ok da quel punto di vista in virtù di questo riesce ad essere secondo me sorprendente sempre da questo punto di vista sì da questo punto di vista sì uncharted 4 cioè quando un amico che non mastica tantissimi videogiochi prende la ps4 e mi chiede un consiglio su un gioco ps4 uncharted 4 è il primo che gli consiglio esattamente per quello che dici tu cioè è difficile che non ti piaccia uncharted 4 perché ha cioè è gestito molto molto bene nel mio caso specifico invece non non mi fa impazzire però però sì concordo che è equilibrato bene a tutto al posto giusto e insomma un grande prodotto insomma dubbiamente un grande prodotto ti ho interrotto comunque dato vai scusami vai avanti mi stavi dicendo una roba e sì ti ho interrotto prima sul discorso opinione personale gusto stavo facendo sicuramente un altro esempio basta che basta che hai capito il discorso spero che insomma si sia compreso il discorso tra opinioni e gusto quindi ritornando al discorso di prima forse volevo concludere risorse di prima no the witcher 3 secondo me è the witcher 3 veramente lo sai che cos'è di the witcher 3 io allora the witcher 3 è anche riconosciuto dalla community come uno dei migliori se tu vuoi vedere per esempio su metacritic è il gioco con l'user score più alto per dirti come anche la community concorda quindi con le witcher 3 però esiste una piccola schiera di detrattori di witcher 3 è giusto che sia così che dice che se tu prendi singolarmente le meccaniche di the witcher 3 non reggono il confronto con videogiochi che fanno solo quello ed è vero ed è verissimo ed è verissimo il punto è proprio questo però i videogiochi che sono più ambiziosi per forza di cose non raggiungono il livello qualitativo di una cosa che fa una sola cosa è fatta bene cioè così il combattimento di god of war è immensamente fatto meglio rispetto a quello di the witcher ma the witcher ha tutta la struttura da gioco di ruolo che god of war non ha insomma è inutile voglio andare a spiegare ma dove voglio arrivare è come dire che la simulazione delle partite di football manager è fatta meglio di quella di fifa ottima osservazione ti ho sorpreso è venuta così è proprio un altro campo ma è un'ottima osservazione esattamente 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 la stessa cosa il football manager ha tutto un mondo no fifa solo la partita e quindi ma il gusto personale in che cosa interviene tu dici perché le differenzi e le differenzi o perché perché poi a casa mia no come dice boys la qualità ha rotto i coglioni no nel senso che poi a casa mia se voglio giocare a game development tycoon che mi piace da morire quel gioco cioè su steam tipo c'ho tipo il contatore dice tipo 60 ore cioè ma tu hai capito che ho giocato molto più a game development tycoon che non ad uncharted 4 guarda camo davvero però sarei un matto a non comprendere la differenza ma parlando di fifa me fifa il nuovo fifa fa veramente cagare io ho giocato a me fa veramente cagare io su steam ho un gioco di merda che si chiama football and glory and tactics e cose del genere è un gioco di merda ma hai capito quei giochi di merda che arrivano talvolta quelli che vogliono sponsorizzare dei giochi di merda e tu gli dici no perché il gioco di merda capito però poi è capitato una volta che oramai la chiave di gioco me l'aveva data e poi io ho dato un'occhiata gli avevo detto no perché il gioco di merda però poi mi ci sono affissato talmente tanto che mi è piaciuto poi oramai ho rifiutato anche perché non mi verrebbe mai di consigliarlo perché è un gioco di merda ma per dire quel gioco lì a me ha divertito più di fifa ora dovevo gli arrivare che insomma questo rispondendoti e concludendo questa parentesi opinioni e gusti per me stanno su cose separate fermo restando che sia le opinioni sia i gusti sono personali sono comunque personali non è soggettiva e oggettiva sono entrambe soggettive però l'opinione e il gusto sono cose diverse secondo me sono diverse no no ma io la penso la penso esattamente come te poi subentra il buon senso che ti deve un attimo diciamo regolare in alcune situazioni e in alcune cose che dici ma questo a prescindere da tutto cioè è chiaro che se dici poi chiudiamo god of war è un gioco di merda stai dicendo una sciocchezza stai dicendo per me è un gioco di merda no siamo sempre lì però tu puoi dire a me non piace chiaramente ma ci mancherebbe quella la differenza tra opinioni e gusti passerotto in chat dice quindi il discorso vale anche per i giochi betesda in che senso passerotto riprendi per tutti i giochi secondo me sì secondo me era una come si diceva una provocazione però se se argomenti meglio la domanda ti rispondiamo volentieri recuperiamo anche qualche domandina un po più su tu quanto tempo hai ancora dado che io non ti voglio rubare troppo troppo tempo utile della tua esistenza tranquillo quando deve finire la finiamo arriviamo alle otto facciamo ancora un quarto d'ora e allora rispondiamo una domanda e poi chiudiamo con stadia vado a recuperare una domanda interesting che avevo sotto che avevo visto sopra a vedi per esempio after tv chiede ragazzi secondo voi mi conviene prendere della stovas 2 al lancio avendo ps4 base o aspettare e prenderlo su ps5 ti rispondo io in modo anticipato e poi lascio il tema dado dipende dipende se esisterà un qualcosa simile smart delivery su ps5 perché la retro compatibilità scusa tu compri ps4 ci giochi lì cioè tecnicamente attenzione retro compatibilità non vuol dire smart delivery no ma tu se tu se tu hai il disco del gioco ps4 ok e ps5 è retro compatibile tu inserisci il disco non dico che gira però o ti scarica la versione ricompilata come questo esatto questo dico questo dico cioè se te non ci torna ben venga se no se ti devi se ti devi ricomprare la versione ps5 per giocarlo con caratteristiche ps5 ha poco senso no cioè tu sostieni che sony fa pagare gli aggiornamenti allora lo smart delivery chiamiamolo così con il termine che ha cognato xbox ok che ti sto chiedendo xbox fa così esatto con xbox che fa così sony fa pagare gli aggiornamenti con della sto col primo l'hanno fatto sostanzialmente con della sto base con della sto base l'hanno fatto sette anni fa dico bene non lo so tu lo sai io non lo so non lo so ma con microsoft che li regala sony fa pagare ma io non lo so qua cioè mi insegni tu nei tuoi discorsi che sono neanche ti sto dicendo secondo te lo fa pagare secondo io io spero di no ma abbiamo ma se non lo fa pagare una allora è interpretata poi siamo tutti d'accordo facciamo un passo di sette anni indietro ok siamo tutti d'accordo che se non fanno una roba del genere sono dei pazzi ok ma potrebbe non farlo non lo sappiamo non lo sappiamo nessuno l'obbliga però facciamo un passo di sette anni indietro i giochi usati tu te lo ricordi il dietro front di xbox cazzarola se me lo ricordo cazzarola tu che vuoi arrivare non è che c'è senso se microsoft li regala e arriva sony e per comprare della sua sparte 2 devi pagare 10 euro in più ma fa un culo forte o fa un passo indietro o rimane indietro secondo me no però hai ragione tu noi non lo sappiamo noi non lo sappiamo ancora non lo sappiamo però io sto dando per scontato che il gioco retrocompatibile significa che sicuramente ci gira poi se dovesse uscire la patch la patch è gratuita allora secondo me sì sicuramente ci gira non lo sappiamo punto a capo che poi l'aggiornamento sia gratuito io non lo do per scontato non lo do per scontato e peraltro l'xbox lo fa gratuito se sony lo fa pagare mi viene in soccorso la chat che dice beh electronic arts ha in parte spoilerato mettendo anche ps5 nello smart delivery attenzione passerotto e altri ragazzi in chat mi stanno facendo notare proprio la questione electronic arts che stavo per lanciarti non so se hai letto di madden che entrerà ok quindi ok però stiamo parlando di le terze parti con questa cosa dello smart delivery faranno un po' quel cazzo che gli pare in base alle loro convenienze in base alle loro pianificazioni di vendita aspettative eccetera eccetera si dà per scontato che per le esclusive non sia così ma a dar per scontato le cose uno poi può rimanerci anche anche male non lo sappiamo però io io le esclusive sony le esclusive ps4 ma cioè quindi fammi capire allora non lo so allora non vuole non sto lanciando una provocazione allora sony questa cosa proprio mi fa impazzire io sto tanto per scontato che sony se tu hai il gioco allora fammi capire io facciamo un esempio che faccio allora io grandi appassionato ps4 grazie sony passo ps5 viva la retrocompatibilità ho tutti i giochi in esclusiva ps4 arrivo al suo ps5 ho tutta la lista delle esclusive viva l'esclusiva xbox verta inserisco il disco paga non stai scherzando cioè hai ragione tu che non lo sappiamo ma se non capita non è che è impossibile altro che gli striscioni andrà tutto bene cioè hai ragione tu che non lo sappiamo ma se non lo sappiamo cioè dobbiamo essere oggettivi in questo caso e dire non lo sappiamo verissimo poi è improbabile che lo facciano è vero che sia al 100 al 100 per cento che lo facciano al 100 per cento non lo sappiamo non volevo diminuire la tua risposta volevo dire che se volevo dire se non lo fa gli striscioni fuori cambiano da andrà tutto bene al sony merda cioè è chiaro è chiaro è capito è nel senso capito no uno un utente ps4 che c'ha tutti i videogiochi per giocarli sulla nuova generazione tu dici di girare ci girano ma la ma solo la patch la paghi ma non ha senso solo la patch la paghi quindi 10 euro per ogni videogioco per la non ha alcun senso non ha alcun senso ma non è da escludere a priori quello farì cioè non so sono chiaramente ironico e non però non sto lanciando una provocazione e guarda secondo me piuttosto che non la fai proprio la patch cioè se me la devi far pagare non farla la patch fai più bella figura e non che guarda per utilizzare il ray tracing paga 10 euro in più ma va a fangulo va secondo me non ha guarda proprio hai ragione che non lo sappiamo ma se lo fa proprio proprio con l'utente col nome utente dato bugs fill the video che quando lo annunciano ci scrivo proprio ma va a fangulo nei commenti ma senti sempre e lanciando le provocazioni secondo te le persone non li pagherebbero quei 10 euro non sto dicendo che non è giusto pagare il lavoro no no ma mettiamoci in questo scenario folle in cui playstation non ha lo smart deliver gratuito allora siamo di comprendere bene perché mi ricordo anni fa quando parlai del fattore retrocompatibilità che qualcuno ebbe il coraggio di criticarmi dicendo tu non vuoi comprare i giochi cerchiamo di comprendere bene non sto dicendo che tu mi stai dicendo sta cosa però cerchiamo di comprendere bene il discorso allora io ho per fare un esempio jack 2 renegade per playstation 2 ok io il gioco lo ho comprato sei se la ps3 fosse retrocompatibile ok vabbè le primissime lo erano ma quella che c'ho io non è retrocompatibile se la ps3 fosse retrocompatibile io il gioco che lo ho comprato lo possiedo vorrei inserirlo nella ps3 e giocarci perché ho comprato il gioco quindi non è che io non lo voglio comprare non lo voglio ricomprare perché già ce l'ho dove voglio arrivare che tu dici ma a che serve fare la patch la patch enhanced non serve a me che già te l'ho comprato il gioco ma ai nuovi che su ps5 non hanno comprato jack 2 arrivano su ps3 si giocano jack 2 versione ps3 con una patch mo per ps3 non è non è non è calzante perché la ps3 non è retrocompatibile per ps3 non dovevano fare una patch dovevano fare una remastered quindi la remastered la fai pagare 30 euro 40 quant'è perché giustamente il lavoro di remasterizzazione è molto più lungo una patch non sto dicendo che ci mettono 10 minuti ci vogliono ci vuole un lavoro dietro però tu la fai solamente per cioè come target sono le persone che non hanno comprato il gioco e quindi sono invogliate a comprare il videogioco su ps5 perché c'è anche la patch enhanced per farci un esempio skyrim special edition bethesda ai giocatori pc l'ha regalato chiaro l'abbiamo comprato il gioco perché non so se mi sono bioshock remastered a chiave va già bioshock ce l'ha regalato 2k games cioè non è che una persona non vuole comprare il gioco non vuole ricomprarlo quindi questo è il mio pensiero io sono stato fedele a sony ho comprato della sova sparte 2 death stranding che cazzi e mazzi la patch la paghi la faccio ray tracing la voglio gratis chi arriva su ps5 non ha comprato il gioco comprerà direttamente il gioco con ps5 e pagherà chiaramente pagherà anche per per la patch spero che sia chiaro il discorso è chiarissimo è chiarissimo sarà fantastico ritrovarci più avanti e vedere che avevo ragione io no ti prendo può darti no no ragazzi è impossibile ma no io mi immagino una roba del genere era chiaramente una provocazione o meglio una provocazione basata sui fatti cioè che oggi non lo sappiamo che poi non lo sappiamo vabbè non lo sapremo a breve senti dado chiudiamo con stadia perché perché io sono curioso di sapere cosa ne pensi dopo aver preso dopo aver preso io ho preso un'altra domanda ma senti io ho preso una valangata di merda perché settimana scorsa che poi la si prende a prescindere anche se avessi detto il contrario quando ho parentesi io sono un sostenitore della prima ora di stadia cioè mi sono calato le braghe di fronte a google quando mi hanno raccontato il concept del servizio ho detto sì ok ci stiamo andiamo ti do i miei soldi ho pagato ok mi trovo poi ci troviamo nelle condizioni eh di di dover criticare no dopo quella roba che hanno fatto settimana scorsa purtroppo sì e quindi tu mi dici io preferisco un'altra domanda ma ti voglio far questa voglio sentire proprio che vai no ti rispondo in maniera molto semplice ho fatto l'account eh però devi attivare cioè ho visto i giochi presenti nel premium tu puoi fare i 15 giorni di prova però quando ho visto i giochi i giochi di prova cioè ho fatto l'account però poi non ho attivato la prova del premium perché non c'è nessun videogioco che mi interessa quando invece mi sono fatto la prova di xcloud e ci sono un sacco di videogiochi che mi stai provando lo stai provando non l'ho provato ancora con attenzione però intanto mi sono fatto l'account ho provato giusto sniper elite per vedere come funziona c'è un pochino di input lag forse sniper elite non è il massimo effettivamente perché con il fucile da cecchino devi essere molto preciso suppongo per esempio una plague tale già si presta molto di più sì ma quello il futuro sì no ma io lo streaming lo dico dal 2015 no no proprio xcloud pensato xcloud pensato per vivere con game pass e attenzione le ultime informazioni dicono che non ci sarà sovrapprezzo sarà un abbonamento unico cioè stiamo parlando eh sì no non lo sapevo sto fatto abbonato a game pass e anche xcloud porca questo è una delle ultime dichiarazioni pseudo ufficiali che sono che sono trapelate o comunque sempre come riprendiamo quello che abbiamo detto inizio live in quella comunicazione diciamo poco precisa poco didascalica di microsoft su determinate cose ok non esiste l'abbonamento ad xcloud esatto esattamente dovrebbe essere così che poi questo voglia dire un x euro in più perché c'è dentro xcloud c'è che game pass possa avere un sovrapprezzo magari minimo qualora tu spuntassi anche l'opzione di avere il cloud può essere però da quello che hanno detto loro non esiste un abbonamento legato xcloud adesso c'è anche ualo in chat se non sbaglio vedendo qua dagli utenti correggimi se sbaglio uguale però io ho letto questo frix ci chiede frix ci chiede oltre a salutarci ciao frix grazie grazie per esserti iscritto un solo abbonamento compreso di internet dunque negli stati uniti non so dado se dico una sciocchezza fermami dovrebbe esistere una formula non comprensiva di internet ma tu praticamente prendi un abbonamento alla console e dentro la cifra che paghi c'hai anche game pass gold eccetera dovrebbe essere dovrebbe esistere una roba del genere sapevo che si stava una cosa del genere ma non ho mai seguito la faccenda cioè non so che cosa ti arriva a casa cioè non ho mai seguito bene la faccenda però stiamo andando da quella parte lì se ci pensi io non escludo che fra qualche anno esisteranno formule del genere cioè fast web di turno che ha non lo so 50 euro al mese ti dà linea console e servizi della console giusto perché no giusto ma perché la console scusa puoi giocare direttamente sulla smart tv ah non è detto che la smart tv non è detto che la smart tv non è detto che la smart tv o comunque nel caso di xbox per esempio se hai la console la puoi usare anche con game streaming oltre che xcloud ma giusto ma sai ci stanno provando hai visto team vision ti danno il cubo eccetera può darsi che fanno qualcosa anche sky che vende l'abbonamento con netflix per esempio cioè queste queste operazioni di co marketing secondo me esisteranno sempre di più giusto anche perché la xbox one s non è che ti devono dare la serie x ti danno la one s no ti danno la one s costa 70 euro te la includano te la dilazionano il prezzo due euro al mese in più di one s non te ne rendi neanche conto non è da scludere secondo me tutto dipende dalla risposta che ci sarà secondo me nel primo nel primo anno di vita di queste nuove console dove i servizi saranno lo stiamo dicendo da un'ora e mezza circa saranno quindi iuri fammi capire xbox ti regala la console ti regala cloud e sony ti fa pagare la pace no io parlavo parlavo di xbox perché abbiamo già l'esempio oggi di cose che esistono lato loro però trovavo ridicolo il fatto sarebbe bello però sarebbe molto ridere no però io mi immagino un futuro un futuro così dove dove ne parlavo su facebook l'altro giorno dove paradossalmente andando sul browser di ps5 io gioco game pass cioè viceversa c'è capito proprio un inclusi e viceversa un'inclusività totale un'inclusività totale non so se dal browser di ps5 si può giocare se si può fare una figata no no parla in what if no cioè inclusività totale relativamente ai servizi in streaming proprio complesso io per esempio io me lo immagino che su nintendo che nintendo farà qualcosa con game pass visto già che hanno lavorato assieme sì sì comunque bazilla chiede qual è la differenza tra game pass più x cloud e playstation now rispondo io rispondi tu vai rispondi rispondo rispondo io allora game pass x cloud game pass prima di tutto dividiamo game pass è come playstation now possiamo dire quindi dei cataloghi ok accessibili in streaming ciò significa che tu non devi possedere il videogioco ma lo puoi giocare in streaming con due dovute di distinguo playstation now all'interno del suo catalogo ha dei giochi che tu puoi scaricare e giocare e dei giochi che tu puoi giocare esclusivamente in streaming io l'ho fatto per esempio con della stovas remastered ed è stata un'esperienza un po traumatica game pass invece ti scarichi tutto quindi ti assicurano massime prestazioni su tutti i giochi che siccome se lo comprassi ok x cloud è un servizio parallelo a game pass che ti permette di accedere al catalogo game pass anche da dispositivi terzi quali smartphone quali computer quali tablet quindi anche in in mobilità sei sul treno stai andando a lavoro ti attacchi al 4g e giochi a gears of war dal tuo smartphone per ora puoi utilizzarlo solo con il pad però questa è la grande differenza beh la più grande differenza è che però uno è buono e l'altro no oggi sì tecnicamente è esattamente così ma la più grande differenza è che ps now non ha un catalogo molto interessante e soprattutto streaming massimo a 720p e 30 fps mentre invece dall'altra parte insomma è decisamente più interessante il catalogo per esempio in game pass a partire da the witcher 3 red dead redemption 2 fino ad arrivare a devil my cry 5 final fantasy 15 e così via e niente sì game pass è proprio una di quelle robe che dici complimenti e tutte le esclusive microsoft al lancio inclusione però ovviamente xbox non ha esclusive quindi te le dà al lancio perché non ne fa quindi è sempre questo oggi oggi quando tu dici le esclusive di oggi eh non tra tre mesi oggi quando tu dici le esclusive xbox sono nel game pass al day one e chi se ne frega chi se ne frega no però dici vabbè io per esempio no sì ok i gears però tipo forza non mi interessa se xbox arriva ad avere anche solo due esclusive serie nel corso e per serie adesso non mi volete non mi vogliate male ragazzi per serie intendo quelle che vendono 10 milioni di copie all'anno intendo spider man e the last of us all'anno allora sì allora sì una ce l'hanno già è halo e non si possono permettere di dire no forse esce dopo no 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 halo deve uscire il day one della console deve essere gratis su game pass con i 40 le 48 o la settimana di prova connessa al fatto che tu compri la console sì 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 e poi si vedrà ci mettere la mano sul fuoco anche soprattutto perché loro sostanzialmente halo infinite perché sarà al lancio 100% guarda non secondo me 100% anche perché loro sostanzialmente halo infinite ci giochi online con utenti della precedente xbox e con i giocatori pc tutti insieme sì 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 c'è una mega famiglia esatto tra la ecco passerotto aggiunge un altro dettaglio dado dice anche su xcloud attualmente arriviamo a 720p solo che essendo uno streaming più compatto a livello di dispositivo quindi smartphone quindi tablet la resa e la percezione è maggiore ok adesso konami arriva ad aggiungere un po di esclusive xbox che dovrebbero esistere ovvero l'rpg di obsidian che con non conosciamo ancora non sappiamo se sarà un tripla a ragazzi non lo sappiamo non lo sappiamo l'rpg di playground si è fable è il segreto di pulcinella lo sappiamo perché fable cioè ci speriamo però non no dai sono usciti anche gli sono usciti anche i concept un po' liccati dai è fable speriamo speriamo sì è fable e poi secondo me il grande il grande atteso è d'initiative che è questa fucina di geni o comunque di grandi sviluppatori che hanno preso da ubisoft da rockstar da naughty dog da santa monica li hanno messi assieme in uno studio a sviluppare il grande blockbuster di xbox che non sappiamo qual è non sappiamo qual è io spero che non sia perfect dark e ti dico spero non perché secondo me è una nuova ip ma perché deve essere una nuova ip deve essere una nuova ip x microsoft ha bisogno di nuove ip sulle quali costruire una credibilità non mi piace l'idea di andare a ribeccare perfect dark ma secondo me fable ma sei sicuro che guarda se fable però fanno un reboot non ci credo che fanno 4 no è fable è nuovo fable fable punto cioè o fable cioè deve arrivare spacca il mercato dice ok iniziamo da qui da capo secondo me chiaro deve essere ma sai non hai nominato altri progetti hellblade noi sappiamo che c'è sì io devo ancora capire se un tripla è il blade 2 vabbè però ever wild di rare è un altro titolo interessante sì ed age of empires 4 non stiamo parlando sì forse age of empires sì age of empires sì 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 da 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 milioni e milioni di copie sì sicuramente sì sugli altri non interessa però ti assicuro no no esatto 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 mi sono corretto subito sugli altri due mi tengo un po di riserve ancora perché devo dobbiamo capire se sono tripla a quindi quelli ha bisogno no cioè che re rifaccia l'altro si votives allora allora cioè dobbiamo un attimo cercare di capire di che cosa stiamo parlando allora il simulator scusa dice colombiano giusto giusto flight simulator dobbiamo cercare di capire di che cosa stiamo parlando ci stiamo parlando di blockbuster che vendono una madonna allora hellblade non ci rientra il nocciolo della questione però è che quando noi parliamo delle grandi esclusive sony non parliamo solo di uncharted the god of war parliamo anche di persona 5 bloodborne questi sono titoli che vendono ma tanto rispetto alle loro nicchie dove voglio arrivare che hellblade se ti vende bloodborne non è che ha venduto così tanto com'è la nostra percezione avrà venduto tipo un tre milioni ok cioè il primo hellblade ha venduto tipo due milioni una cosa del genere cioè non sono così distanti come vendite cioè dove voglio arrivare nel senso ci sono determinati videogiochi che possono comunque rappresentare dei successi per il bacino piccolo al quale si rivolgono un death stranding invece sony è scontenta a quanto pare perché non ha venduto quanto avrebbe dovuto vendere in quanto probabilmente si aspettava che facesse non lo i numeri di uncharted però secondo me ha fatto i conti male sony come potevi pensare che un videogioco in cui cioè palestamente un gioco di nicchia death stranding insomma nicchia della nicchia è più ci si è proprio una sottonicchia di una nicchia death stranding cioè come potrebbe pensare di di fare numeri secondo me secondo me neanche lo pensavano in realtà sono sincero è più una cosa di prestigio e perché sei sony lo puoi fare di dare i bill che poi attenzione noi non sappiamo quanto è costato death stranding vero io non mi aspetto il budget non mi aspetto 200 milioni di budget student stranding attenzione perché lì è il motore ce l'hai già gli asset cioè il motion cap cioè sicuramente nell'ordine dei 100 ma non dei 200 ok io non so quanto possa costare però concordo che non è un super progetto cioè della stovas secondo me costa il triplo tipo di death stranding ma ma anche di più probabilmente ma anche di più cioè ma indubbiamente indubbiamente e poi qualcuno dice si con amy never dies dice a me interessano i giochi belli non le vendite è vero però i giochi belli che vendono cioè i giochi che vendono tanto permettono poi di avere anche i giochi belli a livello di first party a livello di first party perché poi su quello che dici tu dado le grandi esclusive di playstation fanno sì che esistano anche le esclusive più di nicchia certo è tutto un cane che si morde la coda è tutto un cane che si morde la coda ma anche la perfezione delle esclusive piccole cambia in base alle grandi perché è riuscita a vendere un gioco come no man's sky sony ok ma sì sì oltre giusto ma in senso generale il discorso dove vuole essere che dreams assume un determinato valore in quanto esce in un anno in cui c'è final fantasy 7 remake ghost of tsushima e the last of us bravo perché dall'altra parte invece ori e the will of the wisps viene visto come ah e voi avete sto gioco di merda perché avete solo quello perché hanno solo quello perché hanno solo quello è vero è vero e poi si entra in un ma vedi è anche la quantità il problema perché anche gears per questo ti ho detto i sei titoli di cui prima sei titoli non intendevo dire tutti i bombi intendevo dire ora hai capito dove volevo arrivare sì 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 ma anche gears secondo il ragionamento che hai fatto tu che è giustissimo che stiamo facendo in realtà si è beccato un po' di merda proprio perché era l'unica quindi quando tu se nella testa della gente ma giustamente giustamente non ne faccio una colpa se tu hai un esclusiva quell'anno deve essere una roba tipo della stovasi che non lascia spazio a a fraintendimenti cioè è una bomba atomica appunto anche oggi cioè va contro la deontologia del mio mestiere ma in una in un fatto di percentuali quanto mai possiamo ipotizzare che della stovasi sia un gioco di merda il 5 per cento per 90 sul 95 per cento è una bomba atomica ma perché dietro c'è la credibilità dello studio il supporto del publisher sì certo se floppano ma è impossibile cioè lo sappiamo entrambi che è veramente difficile non sto dicendo che sia un gioco da 10 ma difficilmente non sarà un gioco da 9 della stovasi 2 è un gioco che punta al tema come cyberpunk sappiamo che sono dei progetti che loro puntano al 10 2 sapevamo poi ci sono dei progetti che siamo indecisi fino all'ultimo perché dobbiamo toccare con mano god of war era un progetto molto rischioso loro sono andati oltre rispetto a quello che ci aspettavamo che facessero nella stovasi ha una formula già scritta loro sono molto bravi in far quello è una struttura collaudata prendono quella la fa red dead redemption la stessa struttura cioè breath of the wild 2 si parte dalla base di breath of the wild è difficile che flopa death stranding è stato un dubbio fino all'ultimo cioè noi non sapevamo se poteva essere un gioco da 8 da 9 da 10 fino a quando non ci abbiamo messo le mani perché death stranding era una grande incognita invece altri sai già che tende lì lo sai chiudo il pensiero anche perché ho visto che abbiamo sforato sì scusami assassin's creed assassin's creed ogni anno c'è qualcuno deluso perché secondo me ripone delle aspettative che sono troppo alte assassin's creed non è mai stato un capolavorissimo è sempre stato un gioco da 8 e mezzo 9 da volta 9 cioè se tu ti aspetti ogni volta il capolavoro il gioco da 8 gioco di merda se tu forse che hai aspettato come dire ti sei aspettato troppo dal titolo cioè secondo me dipende dal titolo in questione e facevi tu un discorso fantastico di mea culpa all'inizio cioè che tante di queste aspettative nascono le mettiamo noi sì ma allora noi siamo già il secondo passaggio della catena perché i primi a farlo sono i publisher ovviamente noi vi rimando per necessità per necessità ma anche per entusiasmo cioè è il pubblico quando condivide giustamente quando condivide ciò che diciamo e quindi il pubblico dice ma scusa ma sony mi pompa l'evento dado box mi dice cazzo ragazzi troviamoci perché lo seguiamo speriamo bla 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 e io arrivo lì carico a mille quindi subiscono in qualche modo il nostro lavoro e purtroppo capita talvolta che delle aspettative che si creano vengano sai che cos'è è che si dovrebbe avere a monte il buon senso di non pubblicizzare troppo dei titoli che sono secondo me death stranding il più grande problema è che è stato pubblicizzato troppo paradossalmente perché in realtà secondo me sarebbe piaciuto a molte più persone ci sono un sacco di persone che l'hanno preso in odio senza sapere che cos'è perché è proprio bello death strand cazzarola a me è piaciuto proprio assai però guarda se vuoi dedichiamo un'altra live a parlare di death stranding un'altra volta sì sì ti dico solo la mia opinione io sono uno in ufficio mi prendono in giro perché quando ancora andavamo in ufficio di fronte alla mia scrivania ho un santino ho la foto di kojima che mi guarda per me è sono il cioè sono proprio il luogo comune del maestro e genoflessione sono è il mio padre putativo a livello culturale no kojima dei videogiochi i metal gear li conosco a memoria li ho finiti agli european extreme veramente sono la mia mia la mia bibbia ok ma c'è tra i canali consigliati twitch mi ha fatto comparire valentina nappi che gioca the witcher 3 raga dopo sta live tutti da lì ma perché siamo talmente sexy che l'algoritmo di twitch ci unisce a valentina nappi fantastico scusa scusa no ma a buon gusto a buon gusto però ti dicevo death stranding per quanto mi sia piaciuto per quanto io mi sia commosso sul finale per quanto gli abbia dato un grande voto è l'unico gioco di kojima che non ho giocato e non rigiocherai mai due volte davvero sì perché è una di quelle esperienze io l'ho vissuta come un'esperienza one shot rigiocarlo non mi darebbe eliminerebbe il fattore narrativo mi lascerebbe solo il gameplay e farei fatica ok vabbè su gust però invece a me il gameplay è piaciuto proprio assai anche a me anche a me però aiutato aiutato dall'emotività della narrativa sì sì ma anche della solace un po la stessa cioè sono giochi narrativi però dalla solace per esempio non ho giocato comunque tre volte del stranding è molto più lungo è difficile giocarlo mamma mia però no no ti confesso qualche partitina credo che ce la farò ti faccio un esempio red dead redemption 2 pensare di riniziarlo per finirlo probabilmente no però lo prendo spesso per fare magari una battuta di caccia magari una cosa cioè sono dei videogiochi che riprendo e anche death stranding in realtà è da alcuni mesi effettivamente che poi non però dopo che l'ho finito l'ho preso per un po di tempo certo dipende dal gioco nel senso che pensare di riniziarlo dall'inizio sono 49 ore io l'ho finito quindi no però secondo me anche il gameplay funziona bene cioè anche per fare un paio di missioni lo riprendere volentieri senti qua poi chiudiamo veramente io ho un amico e un collega che ha giocato red dead redemption solamente c'è lui ancora adesso il suo salvataggio è arthur che vive di caccia e dorme in giro c'è proprio un role play definitivo ed è fantastico se ci prendi vabbè che capolavoro va bene va bene dado senti io ti ringrazio veramente ti ringrazio di cuore prima di salutarti e di lasciarti la parola due cose per chi ci sta seguendo innanzitutto grazie perché siete stati tanti mi fa piacere il canale sta crescendo anche grazie all'aiuto di persone disponibili competenti e simpatiche come come dado quindi thank you so much vi ricordo se avete piacere di iscrivervi al canale perché siamo live tutti i giorni e questa settimana ho pianificato un palinsesto con ospiti che ci faranno chiacchierare di prossima generazione di videogiochi e di vite vissute come abbiamo fatto oggi anche con dado domani alle 12 ci sarà michele poggi sabaku quindi se vi fa piacere venire a fare anche queste altre quattro chiacchiere ci trovate qua da dove aggiungere qualcosa stavo leggendo la scaletta prediente domani sabaku poi player inside poi mike shosha bellissimo sì e peraltro mike shosha federico ci conosciamo da un po penso che sia una delle prime tra virgolette ospitate che lui fa su un canale di di critica principalmente comunque su un canale redazionale anche da me esatto ma io l'ho invitato perché si vede che è un giocatore appassionato proprio tanto e quindi ha un sacco di cose da raccontare voglio farci voglio fare quattro chiacchiere per me mike shosha è numero uno è l'esatto complementare cioè per me guarda caso si chiama tutti e due mike diciamo su youtube sono è l'esatto complementare di michele cioè michele rappresenta il nostro lato come dire rigoroso rigoroso curioso mike shosha rappresenta il lato entusiasta credo di ogni videogiocatore ha un entusiasmo contagioso è veramente numero uno quindi insomma quando l'ho letto ho fatto molto bene poi si dovrebbe comprare già che ci siamo si dovrebbe completare quel palinsesto stiamo cercando delle date con falconero e power e poi verrà anche antonio iodice che sicuramente conoscerete perché avete visto in anni anni di lavoro su multiplayer poi ho invitato walone se vuole venire comunque sto organizzando una settimana di chiacchiere in compagnia mi ha fatto ria riaffezionare ma non lo so seguendo però c'è stato un breve periodo che mi ha fatto riaffezionare quando è uscito apex legends mi ha fatto riaffezionare per un breve tempo agli sport e c'è stato un momento che power sterni al tipo hanno vinto non mi ricordo che cosa che proprio mi sono connesso su twitch per seguire non seguivo gli sport da un sacco di tempo e c'è stato il mesetto che mi sono riaffezionato power è veramente una bomba una bomba guarda siamo cresciuti assieme io e giorgio a livello di community online si giocavamo assieme su call of duty poi lui è diventato una superstar e io comunque ho la fortuna di fare ciò che mi piace comunque ci vediamo spesso ci sentiamo eccetera ed è veramente un ragazzo d'oro che anche lui magari insospettabilmente è un grande giocatore cioè gioca un sacco di roba perché fa 12 ore al giorno su cioè è conosciuto insospettabilmente per chi lo segue ok perché insomma la sua immagine comunque il suo lavoro è il competitivo però gioca un sacco di roba quindi ha un sacco di cose da raccontare però chiudiamo con te dado hai pubblicato un video recentemente fammi fare uno spam in chat cosa consigliamo forse l'ultimo è stato quello su inside xbox guarda caso no negli ultimi giorni non ho pubblicato niente di nuovo non c'è stato niente di nuovo quindi sto preparando quando ho più tempo a disposizione che può essere una top ten una cosa mi prendo del tempo diciamo per prepararla non ho il discorso del perfezionismo di prima mentre invece quando ci sono delle notizie cerco di essere un po più sul pezzo e quindi di arrivare quindi andare io in chat ho linkato il tuo ultimo video che mi parla di parla dell'inside xbox quindi si collega un po alla live che abbiamo fatto adesso andate ve lo recuperare e ti lascio come ci siamo lasciati l'ultima volta quando sento che c'è qualcosa di interessante di cui chiacchierare come questa volta qua ti rompo le scatole e organizziamo tra un mesetto dopo della passo bassa arrivato assolutamente oppure tra tre mesi quando ci sarà da pagare la la patch di proprio dobbiamo fare la quando annunceranno pagate proprio live ragazzi e tu dirai lo avevo detto io l'avevo detto io l'avevo detto va bene ragazzi grazie a tutti e ci vediamo la prossima buona serata ragazzi ciao buona serata ciao grazie a tutti